Buongiorno dal telegiornale della Sette, una versione ridotta dopo la trasmissione dei solenni funerali della regina Elisabetta. Vediamo subito com'è cominciata l'ultima settimana, scarsa di campagna elettorale verso il voto del 25, sale la tensione tra i leader. Ieri i confronti a distanza tra le piazze con Letta Monza Salvini a Pontida e proprio riguardo agli appuntamenti pubblici che Giorgia Meloni lancia il suo allarme. A meno di una settimana dal voto la Meloni lancia l'allarme piazze dopo l'ennesima contestazione durante un comizio ieri a Caserta attacca qualcuno cerca l'incidente. La leader di Fratelli d'Italia spiega di aver chiamato il ministro Lamorgese che, ha detto, evidentemente non sa fare il suo lavoro perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza ma ora penso sia una cosa fatta apposta. Si cerca l'incidente per dire che siamo inaffidabili e scaricare su di noi la colpa. Alle contestazioni si accompagnano, dichiara sempre Meloni, vari episodi di aggressioni in tutta Italia e gazebo elettorale, un clima d'odio voluto, aggiunge. Il ministro dell'interno è stato chiamato in causa ieri anche da Renzi dopo lo scontro a distanza con Conte. Il leader del movimento lo aveva invitato a presentarsi a Palermo senza scorta a parlare di abolizione del reddito di cittadinanza. Proprio lui che al sud viene acclamato come titolare della misura. Torni definiti mafiosi dal leader di Italia Viva che si è rivolto al Biminale per evitare incidenti che nel suo appuntamento di ieri a Palermo non ci sono stati. Renzi però non ha rinunciato a parlare del reddito. Per combattere la povertà non serve un sussidio a spiegato ma politiche attive. Ieri è andata in scena anche la sfida delle piazze del nord. Alla Pontida leghista infatti il segretario Demma ha contrapposto la piazza dei 500 sindaci a Monza. Città strappata alle amministrative contro ogni pronostico al centro-destra. Rimonta che Letta spera di ripetere alle politiche. Questa città è una grande capitale europea dalla carica ai suoi, mentre Pontida è provincia dell'Ungheria. L'affondo. Letta è nervoso la risposta di Salvini che con la folla del pratone cercava la prova muscolare per avversari ed alleati. Vinceremo e governeremo cinque anni ha spiegato dal palco firmando davanti ai suoi un patto elettorale in sei punti dall'autonomia alle tasse. Novità dell'ultimo ora la proposta di abolire il canone Rai che appesantisce spiega anche la bolletta della luce. Torna invece sulle alleanze in Europa Giuseppe Conte, se l'idea di democrazia della Meloni è quella di Orban vuol dire che è inidonea per il governo. Vediamo adesso qual è la situazione del conflitto in Ucraina perché questa notte l'esercito russo ha lanciato otto missili su Zaporizia, la città che ospita il sito nucleare più grande d'Europa. E poi ci sono le parole del portavoce di Putin e Peskov che ha ribadito la Crimea è parte indivisibile del territorio russo. Chi avanza pretese avrà risposta adeguata. Stamani l'esercito russo ha lanciato otto missili su Zaporizia, città dell'Ucraina sudorientale, sede della più grande centrale nucleare d'Europa. Uno ha colpito il centro regionale vicino al fiume Dnipro, annuncia sui social il capo dell'amministrazione militare regionale. Finora non ci sono state vittime né feriti. Una quarantina di missili russi sono stati sganciati anche sulla regione di Dmitropetrovsk, nell'Ucraina orientale, provocando danni solo alle strutture. Nelle ultime 24 ore a Donetsk, nell'est del paese invece, i bombardamenti russi avrebbero ucciso tre civili e ne avrebbero feriti altri otto. Nella foresta vicina di Zium, nella regione di Kharkiv intanto, prosegue l'esumazione dei corpi da una fossa comune in cui, secondo il procuratore generale regionale Oleg Sinegubov, sarebbero stati trovati 445 cadaveri di ucraini massacrati dalle forze armate russe. Le salme verranno inviate all'obitorio, dove saranno sottoposte ad un esame approfondito per determinare le cause della morte. È lo stesso scenario di Buccia, è una menzogna, assicura il portavoce del cremlino Dmitri Pieskov, e ovviamente difenderemo la verità in tutta questa storia. Sulla scoperta il primo aprile scorso delle fosse comuni relativi al massacro di Buccia, villaggio nella regione di Kiev, nel nord dell'Ucraina, anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, aveva chiesto un'indagine approfondita. Data la carenza di personale militare tra le truppe della federazione russa, Mosca avrebbe inviato in Ucraina anche 400 detenuti della prigione di Tampov per rafforzare le proprie unità sul campo, posta su Facebook lo Stato Maggiore di Kiev. Kiev dove, secondo il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Michailo Podolia, che intervistato dal Corriere della Sera, sarebbero in corso negoziati affinché Papa Francesco vada in visita, prima o poi, evitando però di recarsi a Mosca. Le parole di Peskov che hanno toccato anche il tema Ungheria, Ungheria che assume, secondo il portavoce di Putin, una posizione sovrana su molte questioni, lo accogliamo con favore. Ha detto continuiamo a monitorare la situazione, una dichiarazione che arriva il giorno dopo, la proposta della Commissione europea di sospendere 7 miliardi e mezzo di euro di fondi all'Ungheria in risposta a quelli che sono i timori sullo Stato di diritto. Andiamo negli Stati Uniti dove ci sono i dubbi, le perplessità di Biden, del presidente, di ricandidarsi per il 2024 e soprattutto il gelo con Pechino sulla questione Taiwan. Biden contro Trump bis tra due anni per la presidenza degli Stati Uniti. Meglio non scommetterci. Trump ha più di un problema giudiziario da sormontare, Biden ha 79 anni, è incerto se ricandidarsi. Lo ha detto al magazine della CBS 60 Minutes, lo stesso palco usato per ammonire Putin sul nucleare qualche giorno fa. Deciderò, dopo le elezioni di medio termine, ha spiegato il presidente, è solo una persona che ha un grande rispetto del destino. Oltre che con Putin, Biden ha fatto la voce grossa anche con la Cina. Se ci fosse un attacco senza precedenti contro Taiwan, gli Stati Uniti interverrebbero militarmente in piena linea con la sua dottrina, lo scontro tra democrazie e autoritarismi, nel quale le democrazie occidentali devono essere pronte al confronto senza mai cedere nulla. L'America, spiega Biden, continua a rimanere legata alla politica di una sola Cina, ma questo non significa che Pechino può annettere Taiwan con la forza. Non tollereremo una secessione, è la risposta cinese che invita il presidente americano ad usare toni più pacati. Biden si è anche lungamente soffermato sui documenti segreti sequestrati a Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago e semplicemente dai responsabili sottolineo il presidente, anzi da totali irresponsabili, portarli a casa. Trump ha fatto di più, non li ha restituiti e li ha nascosti alle autorità che chiedevano di rientrarne in possesso. Nonostante questo, Biden ci tiene a smentire una voce che è girata nelle ultime settimane, che abbia chiesto un briefing sulle carte sequestrate al suo predecessore. Non l'ho mai fatto, dice, la mia regola è tenermi fuori dalle vicende che riguardano le inchieste federali. Trump risponde dal palco di Youngstown, Ohio, insieme a uno dei suoi candidati al Senato più forti, l'imprenditore scrittore J.D. Vance. Parla di nemici che definisce delinquenti e tiranni che non hanno idea del gigante dormiente che hanno svegliato. Ma per quanto faccia la voce grossa, i sondaggi lo danno in calo, tanto da doversi guardare dalla rincorsa di uno dei suoi pupilli, il governatore della Florida, Ron DeSantis, che ormai lo supera in teorie complottiste ed azioni estreme. L'ultima è impacchettare i migranti e trasferirli con i pullman nel ricco nord-est, da New York a Boston fino a Martha's Vineyard, l'isola paradiso dei Kennedy, frequentata anche da Trump, che non l'ha presa bene. Torniamo in Italia, ci sono novità nel processo per il crollo della Ponte Morandi, Autostrada e Spea non saranno responsabili civili, il Tribunale ha deciso di accogliere la richiesta di esclusione, a questo punto in caso di condanna a pagare i risarcimenti saranno i privati. Autostrade per l'Italia e Spea, la società controllata che si occupava di controllo e manutenzione, escono definitivamente dal processo penale per il crollo del Ponte Morandi e non saranno quindi chiamati con gli imputati a pagare in qualità di responsabili civili. La decisione, a cui i PM avevano già dato parere favorevole, è arrivata questa mattina. Quattro pagine per spiegare l'esclusione dovuta al fatto che Aspi e Spea avevano partecipato all'incidente probatorio come indagati ma non come responsabili civili. Proprio le due società erano già uscite dall'udienza preliminare patteggiando circa 30 milioni di euro per la responsabilità amministrativa. Una sentenza divenuta irrevocabile, scrive il Collegio Penale. Cosa significa questo? Che tutte le persone ed associazioni che si sono costituite parte civile potranno ora intraprendere un altro processo, quello civile, la cui durata media per arrivare al primo grado in Italia è di circa quattro anni. Non nasconde la propria amarezza per questa decisione Egle Possetti che nel crollo del ponte perse quattro parenti. Questa esclusione è sgradevole. È sgradevole anche il fatto che noi parti civili non li possiamo richiamare all'interno del processo come responsabili civili fino all'inizio processo. Domani il processo riprende con la discussione proprio sulla missione delle parti civili. Le richieste sono più di 600. E questa mattina a Milano la sentenza del processo con rito abbreviato per Alberto Genovese, condannato a otto anni e quattro mesi per i reati di violenza sessuale, detenzione, eccessione di stupefacenti, due i casi denunciati da due ragazze avvenuti in una villa a Ibiza e nell'attico milanese dell'ex imprenditore. Andiamo a sentire adesso la corrispondenza del nostro inviato nelle Marche. Più passano le ore, più si affievoliscono chiaramente le speranze di ritrovare in vita il piccolo Mattia e la donna di 56 anni dispersi durante l'alluvione che ha causato 11 vittime. Intanto la procura di Ancona procede nella sua indagine si indaga soprattutto per quello che è stato il mancato all'arma. Nel gergo dei soccorritori si chiama Golden Hour, l'ora d'oro. Sono le prime 24 ore di ricerche dopo un disastro. Più ci si allontana temporalmente, più il recupero dei dispersi. Qui sono ancora due. Mattia, otto anni, e Brunella, 56, diventa complicato. Nel piazzale del cimitero di Barbara, diventato il centro di coordinamento operazioni, c'è una riunione dei sommozzatori, dei vigili del fuoco e della finanza. La piena, si vede il segno, è scesa, ma in alcuni punti il livello è ancora alto. La visibilità sott'acqua è zero, la quantità di detriti. Questa auto sembra come se avesse fatto un frontale con un tir e di alberi sradicati, innumerevole. Il raggio di azione enorme. Noemi, la ragazza di 17 anni, è stata trovata a 6 km di distanza dalla macchina. Lo zaino di Mattia, invece, è stato recuperato addirittura a 8 km dalla Mercedes classe A della mamma, ma è un elemento che i vigili del fuoco considerano irrilevante per le ricerche, poiché era rimasto a bordo dell'auto dopo che loro erano scesi e fuggiti via. Può essere sott'acqua, può essere all'altezza degli alberi. Controlliamo anche, diciamo, i punti dove i detriti si sono ammassati, perché in alcuni posti i detriti hanno un'altezza di 4-5 metri, uno spessore anche di 5-6 metri. Quindi lì va controllato. Logicamente capite che il corpo di un bambino di 8 anni è molto piccolo, quindi va controllato tutto in maniera sistematica. È possibile anche che non venga mai più ritrovato? C'è la possibilità. La procura di Ancona procede per omicidio e inondazione colposa. Un punto dell'indagine è il mancato allarme. La protezione civile della regione aveva diramato questo bollettino. Nessuna segnalazione di criticità idrogeologica, ma una generica allerta gialla per vento e temporali in alcune zone interne, non su Senigaldia. I carabinieri hanno già acquisito in regione documenti relativi alle opere di idraulica e di bonifica del fiume Misa e dei suoi affluenti. Ora li stanno recuperando anche nei comuni. Hanno sorvolato e filmato l'area. Ci si concentra sulla vasca di compensazione di Bettolelle, un progetto degli anni Ottanta impantanato in mille pastoie burocratiche. è partito solo pochi mesi fa. C'è una colpa nei ritardi dell'opera. Non è detto che sarebbe riuscita a contenere una piena di questa portata, ma qualcosa di sicuro sarebbe servita. Per esempio, proprio a Bettolelle, a salvare Gino Petrolati, che era arrivato a 89 anni per morire travolto in un'auto dal fango. Oggi il suo funerale. Parliamo adesso del campionato e di una giornata che ha lasciato forte il segno prima della pausa per le nazionali con le rovinose cadute di Inter e Juventus, le sconfitte di Milan e Roma. Dopo sette giornate comandano Napoli e Atalanta, seguite dalla sorpresa udinese. Che fosse un campionato diverso per via della novità di un mondiale giocato a fine autunno era facile da prevedere, ma immaginare una classifica comandata dalla coppia Napoli-Atalanta con l'Udinese, prima inseguitrice, e Inter e Juve in piena crisi, era forse impossibile. I bianconeri dopo sette giornate hanno raccolto la pochezza di dieci punti, addirittura uno in meno di un anno fa una vera miseria. Anche i numeri dei nerazzurri sono spietati, quattro sconfitte in nove gare stagionali, tredici gol subiti. Ma a colpire, soprattutto altro, se c'è una parola che racconta la perfezione e la situazione attuale delle squadre di Allegri e Inzaghi, è questa confusione. Squadre senza identità, né logica, né struttura, a colpire l'atteggiamento sfiduciato dei giocatori, le loro facce, il loro nervosismo, anche di quelli che di battaglia ne hanno fatte, come Di Maria, espulso per un fallo di reazione. A colpire è lo scollamento che sembra esserci tra giocatori e tecnici. Ci sono tanti modi di perdere, Inter e Juve l'hanno fatto nel modo peggiore, schiacciate della paura anche di se stessi, prima ancora dell'avversario. Simone Inzaghi ha cambiato due giocatori, fuori Mkhitaryan e Bastoni, dentro di Marco e Gagliardini, dopo appena mezz'ora perché ammoniti. Contro il Monza, che sino a ieri aveva ottenuto un solo punto in segare e guidata da solo cinque giorni da un nuovo tecnico palladino, si è vista una delle Juve peggiori dell'ultimo ventennio. Ci sono tanti modi di perdere, il Milan, lo scontro diretto con il Napoli, l'ha fatto combattendo, dimostrando di essere una squadra viva, almeno quanto il Napoli, che però ha la bellezza, ha unito anche il cinismo. Inoltre quest'anno, Spalletti è anche una rosa completa in ogni reparto. Sette giornate sono poche, soprattutto in un campionato a ostacoli come questo, servirà più tempo per capire la reale forza della Roma, ieri battuta dall'Atalanta e della Lazio, che a Cremona si è messa subito alle spalle gli schiaffi europei, ma intanto è bello sottolineare che dopo decenni la provincia ritorna protagonista. L'Atalanta è una conferma, l'Udinese invece è una sorpresa, a gioco, voglia, entusiasmo, tutto quello che Juve e Inter hanno da tempo smarrito. Era l'ultimo servizio, adesso la linea va a Tiziana Panella al suo Tagadà. Grazie per averci scelto e buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.